Non sei abituato, non sei abituato, non sei abituato, recinto, 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 un inizio comunque nascosto, nell'estate del 63, nel febbraile del 69, un volto appena trasparente, qui bisogna mettere un'immagine, per esempio un'immagine della memoria e della consona, non sei abituato, o finisci che inizia e si inizia a sempre, dal punto dove aveva finito la volta prima, soltanto che non c'era, è una volta prima, è così che funziona nel recinto, è come per la storia della fotografia o della grafia, e non c'è un prima, perché tutti pensavano la stessa cosa, fino dal cerchio sulla parete, o signorrea del mondo, se forse finisce, non è, fabbricare, Allora inizia intorno, intorno, qui o anche soltanto prossimo, non l'approssimazione, sempre appressamento, come al solito è l'assettamento a un notasimo, il fastidio infinito che prova alla porta, come sto bene, per l'idea stessa di porta, e per l'allegoria, un giorno mi trovo, sto, è infastrato in un allegoria che le fanno per chiedere se avete, ogni altra mezza, è libero, ma con mezza libero, ho bisogno di un'estrazione, di un'estrarmi, Eppure è, con questo, per questo, perché la soglia è la soglia del bene, che tiene, significa, no, niente pasta, niente carne, ecco qui, la cremina, l'anima, la crupierina, acida, di là dalla soglia, e questo si ritrova lanciato nel, come sta bene, nella percezione senza concetto, non è abituata al concetto, il concetto non è abituato, ne lo è il concettualizzato, L'affare si complicata, altre cose, con un tipo di collage, eccetera sì, è che rende un petit che insiste, Un tasche rouge, sarà le paradis, un misaggio, un cervello, un cordone, l'ispirale, un diagonaio, E tuttavia tutto, beh, dire, un spessimento della pellicola, che sembra un armonio di Eden, ed è, lui, au contraire, è l'irrorarsi, l'iridarsi dell'esospirrit Genevetro percezione, che si impressiona del ricuadro luminoso, numeroso di gringhi, greti, grigli, gameti la vanitas varietas e l'eden percettivo plures, multi, plenty of